la squadra dell'assemblaggio della macchina di santa rosa state sempre dietro le quinte però senza di voi la macchina non esiste praticamente alla fine della giornata che emozioni avete l'emozione diciamo che nonostante questa è il quarto anno che montiamo gloria è sempre come a primo anno quindi diciamo che già da qualche notte prima si comincia a sentire il peso delle responsabilità ma anche il peso dell'impegno poi ecco si arriva anche un po stacchini ma comunque sono disfatti come sempre il lavoro è andato bene la giornata dentro ci ha assistito quindi grazie grazie a questo meraviglioso montaggio di gloria questa squadra meravigliosa io arrivo al decimo trasporto da indietro grazie particolare va veramente a chi sta dietro le quinte che ancora stanno dietro di noi a lavorare quindi non ci sentono ma vogliamo ringraziare fortemente pure grande entusiasmo abbiamo visto il punto di cui non ci mette dal ruolo che ci hanno durante l'anno come dipendenti collaboratori della nostra azienda ma ci mettono proprio il cuore ci mettono il cuore grazie a tutti